Ciao, sono Giulia Masotto e oggi è il mio ultimo allenamento a Verona. Fa freddo, ci sono tre gradi, però finalmente domani partiamo con la rabbia. Cioè questo pomeriggio, però leveremo domani. E niente, sono contento di iniziare la stagione. Allora, ci vediamo lì, ciao! Però prima, guardatevi il viaggio. La giornata è iniziata bene, volo overbooking. Allora, ieri siamo partiti da Venezia, però c'è stato un overbooking e io, Zambelli e dalla valle siamo arrivati giù. Abbiamo dormito a Venezia e stamattina abbiamo preso il volo alle 6 e siamo arrivati a Parigi e abbiamo preso il volo all'ultimo. Adesso siamo in viaggio per la rabbia. dove ci sono tutte le squadre, ci vediamo. Allora, non vi ho aggiornato del viaggio. Io siamo atterrati ieri sera ad Alula, siamo venuti a prenderci col pullman e siamo arrivati in questo villaggio che è enorme. Bene. 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 Saluto a tutti. Ciao! 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 Io sono am stressito. E finalmente un bel massaggino! ательно! No cósmut. è bella